siamo al tavolo dei relatori Paola Romi che ci raggiunge dall'Umbria dalla lontanissima Umbria dalla sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria e che ci presenta un contributo dal titolo conosci conserva racconta spunti di riflessione su mezzi e modalità di informazione comunicazione e condivisione nell'ambito delle attività di tutela del patrimonio archeologico. Allora innanzitutto grazie infinite agli organizzatori di questa bellissima giornata eh è oltremodo complicato seguire a da parte mia agli interventi del del direttore e del sovrintendente Barbara De Vitte e della dottoressa Mirella Ser Lorenzi perché diciamo è già stato detto tutto in da tanti punti di vista e da dal punto di vista invece dei risultati ci sono state mostrate eh cose quasi mirabolanti quindi abbiate pazienza se vi riporterò su Lidi un pochino meno affascinanti. Come eh come ci hanno giustamente ricordato questa mattina sia il direttore generale La Rocca che il professor Papi l'archeologia pubblica e l'archeologia di comunità non nascono certo negli anni dieci del duemila eh ma è altrettanto vero eh che ehm sono tematiche di cui non si parla mai abbastanza perché lavorare con la cittadinanza e con le amministrazioni non è mai un una cosa semplice pur nella eh doveroso rispetto del del pubblico come ci ricordava Mirella Ser Lorenzi e nella doverosa eh nella doverosa predisposizione d'animo di non semplificare dobbiamo comunque ammettere che la percezione dell'archeologia a livello generale ehm da parte delle comunità locali e anche la loro diciamo il loro punto di vista rispetto ai beni musealizzati e non continuano ad essere una cosa molto complicata da trattare e che spesso ehm quando si analizzano questi aspetti eh ci restituisce degli dei risultati anche abbastanza comici se si vuol prendere la questione con ironia per questo motivo vi ho riportato sulla slide in basso il titolo di un contributo presentato pochi giorni fa a Firenze eh da Ilenia Zori che indagando appunto il rapporto di due comunità eh con il loro patrimonio archeologico in titolo appunto ehm sì il sito eh è quel posto dove eh io spesso vado a cercare i funghi o per citare l'esempio sardo dove vado a prendere il sole mi verrebbe da dire ovviamente questo si basa sul fatto che eh a fronte di un forte attaccamento che spesso c'è da parte delle comunità verso tutto quello che è il passato non ci sono delle visioni eh uniformemente strutturate e critiche rispetto a questo passato che è un contenitore un po' indefinito e in questi tempi di accelerazione come ci ricordava una un relatore in precedenza ehm ulteriormente difficile da comprendere perché si ha uno schiacciamento diciamo cronologico tutto sommato e ehm una percezione delle comunità che eh spesso giustamente perché l'essere umano impara toccando le cose vedendo vedendole si basa soprattutto su esperienze personali e su elementi che con cui fisicamente si è venuti in contatto se poi da questo visto che io lavoro in un ente in un ufficio che si occupa prevalentemente di tutela si passa al lavoro di tutela in senso stretto il preconcetto rispetto a quanto siamo nefasti e dannosi eh è immediato eh è inutile che ci prendiamo in giro ma è così sta a noi cercare di modificare questa percezione scusate anch'io come vediamo se se riesco meglio così no? Ok? Eh è questo il motivo eh per cui eh dobbiamo cercare di eh far sì che una necessità la necessità e il dovere di informare i cittadini e le amministrazioni diventi di fatto un'opportunità anche per stabilire buone pratiche e per provare appunto a smontare quei preconcetti o quelli quelle idee che uno si fa rispetto a quello che è il nostro lavoro e l'oggetto del nostro lavoro io qui banalmente ho riportato in questa slide eh tre eh con tre post di due sovrintendenze quelle de di Venezia Laguna e quella dell'Aquila e Teramo proprio per esemplificare eh come si possono usando un mezzo digitale a disposizione di tutti che sono i social media ehm fare queste cose a sinistra vedete un post della sua intendenza ABAP per il Comune Venezia Laguna che eh diciamo mh diffonde la possibilità di un incontro in cui si raccontano normativa normative e procedure per eh ottenere permessi e quant'altro invece le altre due sono cose che forse ci piacciono di più ma che a volte diventano mh non la parte centrale del nostro lavoro e che sono invece post dedicati alle nuove scoperte in modo abbastanza esaustivo secondo me e eh sobrio ehm allora quindi mh a giudicare da questo da questa prima slide da questa seconda slide sembrerebbe che vada tutto bene nella comunicazione del patrimonio da parte delle sovrintendenze italiane ma come sempre eh chi non fa non sbaglia e soprattutto la polemica e la critica è sempre dietro l'angolo prendo un post della a mio avviso bravissima sovrintendenza di Venezia Laguna per affrontare velocemente una problematica che mi sta personalmente a cuore e credo che sia anche utile eh affrontare seppur veramente per sommi capi che è quella del trattamento dei resti umani nell'ambito degli scavi tematica che certamente eh è più dibattuta in ambito museale ma che non può non avere una ricaduta anche nell'ambito del racconto delle scoperte archeologiche e dei rinvenimenti. La bibliografia è esterminata sicuramente con la conoscerete meglio di me eh mi permetto di eh di citare in ambito italiano due due testi uno uno è quello che vedete in alto eh che è relativo alla linea guida fatta appunto da Ica e CCD sui resti scheletrici umani che affronta anche la tematica eh che vi dicevo l'altro è un tema è un volume che sono gli atti di un convegno curati da Marco Arizza che mh prende eh diciamo in esame la questione in modo prettamente deontologico eh secondo me come in tutte le cose bisogna trovare un equilibrio personalmente ritengo che l'equilibrio sia né più né meno quello che ha mostrato Miriella Serlorenzi quando ci ha fatto vedere come sono stati esposti e raccontati i vari frammenti ossei animali o i reperti archeologici di varia natura in questa struttura cioè mostrare sì mostrare quello che serve e che è funzionale al racconto ma contestualmente spiegarlo con eh associando un'immagine un'immagine che può essere una ricostruzione grafica eh può essere una ricostruzione virtuale può essere un disegno diciamo a silhouette può essere come nell'esempio che vi propongo in questa slide un un'immagine della eh ricostruzione fatta da attori da renactor della sepoltura di cui si parla ovviamente quando si raccontano tematiche prettamente antropologiche legate a elementi ossei che danno dei dati specifici lì è sacrosanto l'uso dell'immagine del resto umano ma io non a mio avviso non è disdicevole per così dire nemmeno degli altri contesti l'importante è che non sia solo l'immagine del resto umano direte forse avrete l'impressione che uno citi in realtà eh in realtà eh ci sono anche esempi italiani non tanto diciamo in ambito di comunicazione almeno io non li conosco magari mi sbaglio eh strutturata delle nostre dei nostri uffici ma eh diciamo eh esperimenti fatti da colleghi archeologi io vi riporto l'immagine di Sonia Tucci durante scattata durante il primo lockdown nell'ambito dell'iniziativa online l'arte ti somiglia e che appunto eh nel post relativo che potete vedere eh ci mostra la ricostruzione la tomba di novantadue di novi Vilara che era quella che veniva ricostruita e poi tutte le fasi di allestimento della cosa quindi credo che anche per i resti umani ci sia una via percorribile che non esclude né una nell'altra eh introdato fondamentale cioè l'analisi la ricostruzione e nemmeno il dato materico ma che eh non si possa prescindere da provare a a farlo quindi mh come possiamo andare avanti su questa linea per ehm continuare a parlare di comunicazione delle attività di ricerca e di tutela sul territorio beh si può proseguire elencando banalmente tutte quelle scoperte perché non c'è il tempo di affrontare i racconti anche delle cose scoperte in passato ahimè parliamo di quello che stiamo scoprendo adesso ci sono tante tipologie di scoperte con cui una sovrintendenza o un parco archeologico che ha eh che ha competenza anche per sulla supera di un territorio in cui si può imbattere possono essere scoperte fortuite e le successive indagini possono essere scoperte fatte durante indagini archeologiche preliminari come quelle da cui deriva questa splendida struttura possono essere scoperte fatte nel corso dei lavori possono essere scoperte fatte durante i restauri o gli scavi degli uffici del mic possono essere e sono fortunatamente scoperte che avvengono tutti gli anni durante gli scavi in concessione come esempi eccellenti di diciamo mh attività di mh condivisione con con la cittadinanza e comunicazione eh di alcuni di questi di alcuni di queste attività eh ho scelto ehm quello di pilastri e quello di eh vignale in nel comune di Piombino ovviamente siamo nel luogo dell'eccellenza della comunicazione di un contesto rivenuto durante indagini preliminari quindi non servirebbe dire altro l'esperimento di pilastri diventa oltremodo interessante perché eh i rinvenimenti fatti eh durante le le attività di archeologia preventiva vennero eh effettuati nel corso della progettazione di una scuola provvisoria dove essere costruita dopo il terremoto emiliano del duemila dodici quindi capite la confluttualità del dei resti dell'età del bronzo con quella che era la volontà locale di ricostruire di ritornare a vivere di ritornare a vivere in modo ordinario la bravura di chi se ne è occupato è stata appunto quella di far capire che questo questi resti non erano un ostacolo ma erano una ricchezza e di aver ottenuto eh l'ottimo risultato di non solo riuscire a costruire questa scuola temporanea ma anche di far sì che nei terreni vicini per svariati anni si effettuassero regolari campagne eh di scavo archeologico per quanto concerne invece eh vignale si tratta di uno scavo in concessione attivo dal duemilaquattro che ancora oggi va avanti una villa torguantica con fasi alto medievali e che della rapporto con il territorio ha fatto quasi la sua seconda missione se non la prima pari merito con la ricerca e quindi mi sembrava doveroso ricordarlo non l'ho messo nella slide perché avrei appesantito ma mi preme ricordare anche lo scavo che è stato svolto l'anno scorso se non erro perché questi anni sono velocissimi e mi passano anche troppo velocemente al parco archeologico dell'appia antica il castro un cretani e che è stato mirabilmente raccontato giorno per giorno online con grandi credo anche successo con grande successo di pubblico bene da questo detto questo sembrerebbe quindi che da un punto di vista della comunicazione delle nuove scoperte in ambito archeologico vada tutto bene perché questi esempi eh che vi ho fatto mi sembra che vada che diano piena attuazione a quello che è il relato della convenzione di faro di cui ho riportato qui l'articolo uno beh vanno bene se con grande fatica e con grande attenzione si si calcolano al millimetro tutti gli aspetti perché ci dobbiamo ricordare e ovviamente quando si ha a che fare con territori vasti eh è anche un po' più complicato che se da una parte la condivisione del dato archeologico nuovo del è doverosa come ci ricordava la professoressa Pallecchi altrettanto doveroso è cercare di eh evitare danneggiamenti furti scavi grandestini e quant'altro quindi come si conciliano questi due aspetti a cui non possiamo rinunciare si conciliano pensandoci pensandoci bene eh avendo una stretta collaborazione perché quella è sempre la parola giusta con chi sta scavando che sia una concessione che sia un professionista che lavora per e calibrando bene ogni cosa io ritengo che nelle situazioni in cui le criticità ci sono la via da da seguire sia un immediato e tempestivo e costante eh contatto con la popolazione locale quindi un racconto fatto sul sito fatto vicino al sito destinato prevalentemente alla comunità locale questo perché uno perché è un dovere come ci siamo detti più volte perché quella è casa loro in qualche modo oltre che casa nostra ma anche perché questa attività capillare e istantanea mi permetto di dire ci permette da una parte di far sì che la cittadinanza avverta come suo quel quello che è stato trovato e quindi ci aiuti anche nelle attività di controllo e vigilanza non perché devono fare i vigilantes ma perché comunque se avvertono dei movimenti strani di comportamenti scorretti magari possono segnalarlo dall'altra parte ci permettono di evitare tutti i danni da curiosità perché a volte succede anche che chi si introduce nel cantiere non vada lì perché è un tombarolo ho quasi finito eh ma semplicemente perché è curioso non sa ma nel farlo fa dei danni dall'altra parte una condivisione immediata di situazioni critiche e a rischio eh su amplissimo su amplissimi eh destinata a amplissimi pubblici come può essere quella digitale eh non è che ci scongiura non è che ci evita l'arrivo del ladro professionista tutto un barolo che si vuole però magari ci evita eh la correre di chi col metal detector la domenica eh siccome ha saputo che a cinquanta chilometri da casa c'è un sito nuovo viene lì col metal detector scusate la banalizzazione però questo questo è quindi a mio avviso quando ci sono delle criticità è meglio a fronte di un lavoro sulla comunità rimandare ad un secondo momento quando si sono sistemate un po' di cose si è finito lo scavo si sono eh sistemati alcuni aspetti un diciamo l'annuncio urbi e torbi a tutti questo perché in sintesi quello che noi secondo me ci dobbiamo mh proporre di attivare è questo circolo virtuoso del patrimonio o eredità culturale dir si voglia ma quello è eh che cosa è questo circolo? Um semplicemente un processo in cui eh noi archeologi ci poniamo come quelli che devono spiegare raccontare illustrare quello che viene trovato in modo che agli occhi delle persone che ci ascoltano questo acquisisca un valore un valore che loro si sentono eh in dovere di eh tutelare di rafforzare e in in questa attività di cura gioco forza molto spesso le comunità creano anche un ambiente insieme a noi molto più piacevole e godibile che rinnesca il resto della del circolo virtuoso va sempre tutto bene se uno sta attento se uno è bravo se uno ci si dedica beh qualche cosa ogni tanto succede lo stesso chiudo con una parte ironica per quanto uno si affanni anche a leggere a leggere rileggere rileggere comunicati stampa altrui quindi succede che il giorno dopo esca l'articolo in cui gli archeologi della dell'università statunitense sono diventati gli Indiana Jones del Crasimeno. Grazie a tutti. Non essere dilungata. No non ti sei dilungata sei stata precisissima io conoscevo già il Cude teatro finale che trovo geniale e no veramente eh grazie per questo escursus sul come comunicare anche le scoperte e grazie per farcelo vedere dal lato di una soprintendenza perché insomma in ambito museale sappiamo tutto è sempre un po' più ehm già 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 sperimentato però ecco eh parlare di comunicazione nelle soprintendenze nell'attività di tutela che eh portate avanti tutto il giorno sul territorio ha un valore secondo me importante proprio nel cercare nel trovare quell'equilibrio tra condivisione sicurezza e conservazione. Ti ringrazio anche per aver citato le linee guida sul trattamento dei resti umani che Perica ha seguito Valeria Concia e anzi colgo l'occasione per ricordare a tutti voi che il cinque luglio e in direzione generale archeologia belle arti e paesaggio avremo un incontro dal titolo a un anno dalle linee guida in cui verranno presentati dei casi di studio appunto alla luce della della pubblicazione di questi linee guida quindi insomma gli eventi dell'ICA continuano eh anche in estate. Eh grazie ancora Paola, grazie davvero.